Benvenuti a TGSA di martedì 20 marzo. Discarica abusiva sequestrata a San Gregorio Magno. Un'area di oltre 4.000 m2 adibita a discarica abusiva è stata sequestrata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato in località Cannitiello, nel comune di San Gregorio Magno. Nel corso di controlli specifici, gli agenti della stazione di Buccino hanno scoperto lo sversatoio dove erano già stati depositati oltre 600 m3 di rifiuti urbani di varia natura e provenienza. Noceana Superiore, sequestrati prodotti contraffatti e privi del marchio CE, un denunciato. La Guardia di Finanza di Scafati ha sequestrato in un'attività commerciale gestita da un cittadino di origine cinese 350 prodotti recanti, loghi, marchi e personaggi di noti cartoni animati contraffatti. Il titolare dell'impresa è stato deferito all'autorità giudiziaria e dovrà pagare una multa di 6.000 euro. Nigeriano perde la testa a stanza, calcio e pugni ai carabinieri arrestato. Per un diverbio ML di 21 anni ha colpito ripetutamente un suoto nazionale con una bottiglia di vetro. Intervenuti i carabinieri, l'uomo si è scagliato contro di loro a calcio e pugni. Castellabate, Villa Matarazzo, mercoledì verrà abbattuto il muro di recinzione. Mercoledì alle 10 prenderanno in via i lavori di manutenzione straordinaria e la riqualificazione del tratto finale del muro di recinzione di Villa Matarazzo. Il cantiere verrà aperto alla presenza del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, e del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Paolo Di Diano, Amilcare Troiano. Salerno ancora protagonista sulle reti televisive nazionali. Mercoledì la trasmissione di Retribu, Giorno Regione, in onda a partire dalle ore 7.30 e il tigino del mattino alle ore 8, dedicaranno servizi sulle nuove iniziative avviate dal Comune di Salerno, al fine di offrire nuovi servizi per i neonati e le famiglie. In diretta dall'asilo Nido Buonocore ci sarà il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Protocollo anti-erosione, la soddisfazione di Cariello. In qualità di rappresentante del territorio e di coordinatore del tavolo istituzionale, ringrazio il governatore della Regione Campania, Stefano Caldoro, l'assessore regionale all'ambiente, Giovanni Romano, e il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, per aver dato una seria prospettiva di rilancio turistico ed economico alla costa del Sele. Così ha detto il presidente della Commissione Provinciale e Politiche del Lavoro, Massimo Cariello. Kung Fu, anche un attratto di baronissi nella nazionale impegnata a Tallin. Ennesimo riconoscimento per l'attratto di baronissi Michele Giordano, che aumenta il suo già ricco medaglieri con l'importante riconoscimento della medaglia d'argento al valore atletico da parte del presidente nazionale del CONI, Gianni Petrucci. Un riconoscimento importante che giunge alla vigilia dell'ennesimo appuntamento europeo di Michele Giordano, che a Tallin, in Estonia, dovrà difendere la corona di campione uscente conquistata nella precedente edizione e tenutasi in Turchia. Judo, quinto posto per l'attratto di Montecagnano Emanuele Magazzeno, all'European Cadet Cup. Ottimo piattamento dell'attratto di Emanuele Magazzeno alla competizione di Judo European Cadet Cup, che si è svolta nei giorni scorsi a Zagabria, in Croazia. Il giovane, che si è classificato al quinto posto nella categoria più 90, ha rappresentato la città di Montecagnano, Faiano, indossando sul braccio lo stemma del comune. Dieci sere insieme con il teatro. L'appuntamento è per domenica presso il centro sociale Marco Biaggi di Mercato San Severino alle ore 19 e proseguirà nelle domeniche successive per concludersi il 25 marzo con la tredicesima edizione del premio Roberto San Severino. units e control con la tredicesima edizione professional漢 suscritti